L'argomento cooperazione in regione Lombardia è molto importante dal mio punto di vista perché noi non abbiamo storicamente come regione Lombardia nel mondo dell'agricoltura specialmente una tradizione, tant'è vero che siamo all'incirca nella media nazionale cioè il 32% delle aziende hanno questo tipo di attitudine, quindi a cooperare. Vista la situazione economica che c'è in questo momento, soprattutto nel mondo agricolo noi come regione Lombardia pensiamo che sia opportuno incentivare questo tipo di collaborazione che necessita appunto un sostegno che avverrà tramite il PSR e che quindi sono sostanze economicamente quindi sono sostanze che arrivano dall'Europa ma che noi prevediamo in un futuro di poter incentivare questo tipo di attività anche con economie lombarde.